Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo 1 Il Padre delle Misericordie è il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio, consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la nostra consolazione e salvezza, se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che partiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione, che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libera da un sì grande pericolo di morte, e nel quale speriamo che ci libererà ancora nell'avvenire. Mentre anche voi vi unite a noi per aiutarci in preghiera, affinché siano rese grazie per noi da parte di molti, per il beneficio che ci sarà accordato tramite la preghiera di molte persone. Il nostro vanto, infatti, è questo, la testimonianza della nostra coscienza, che nel mondo, e specialmente verso di voi, ci siamo comportati con la semplicità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Perché non vi scriviamo altre cose, se non quelle che potete leggere o comprendere, e io spero che le comprenderete fino in fondo, come in parte ci avete già compreso, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi sarete il nostro del giorno del Signor Gesù Cristo. E con questa fiducia, io volevo venire prima da voi, affinché riceveste un secondo beneficio, e passando da voi, andare in Macedonia, e poi di nuovo dalla Macedonia venire da voi, e da voi essere accompagnato in Giudea. Prendendo dunque questa decisione, o gli agito con leggerezza, o le cose che io decido, le decido io secondo la carne, di modo che vi sia in me, allo stesso tempo, il sì sì e il no no? Ora, com'è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è stata sì e no. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma, assieme a voi di Cristo, e ci ha unti e Dio, il quale ci ha anche sigilato e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Or io chiamo Dio come testimone sulla mia vita, che risparmiarvi non sono ancora venuto a Corinto. Non già che dormiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi stiate saldi per fede. Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo 1 Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo 2 Or io avevo determinato in me stesso di non venire di nuovo da voi, con tristezza. Perché se io vi rattristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me rattristato? E vi ho scritto in quel modo affinché, alla mia venuta, non abbiate tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia di voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Vi ho scritto, infatti, con molte lacrime e con grande afflizione e angoscia di cuore, non perché foste rattristati, ma perché conosciate il grandissimo amore che ho per voi. Se qualcuno ha causato tristezza, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare, poi tutti. Basta a quel tale la punizione afflittagli dalla maggioranza, ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete obbidenti in ogni cosa. Ora, a chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoramo le sue macchinazioni. Ora, quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo e mi fu aperto una porta nel Signore, non ebbi alcuna requie nel mio spirito per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò, congedandomi da loro, me ne andai in Macedonio. Or si è graziato Dio, il quale ci fa sempre tionfrare in Cristo e attraverso noi manifesta ogni luogo il profumo della sua conoscenza, perché noi sappiamo, per Dio, il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non falsifichiamo, infatti, la parola di Dio come molti altri, ma come in sincerità, ma come da parte di Dio. Parliamo davanti a Dio, in Cristo. Seconda Epistola dei Corinzi, capitolo 2 Seconda Epistola dei Corinzi, capitolo 3 Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. Or questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, per Dio. Non già da noi, che siamo stati capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi i doni di essere ministri del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Ora, se il ministero della morte, che era scolpito di lettere su pietra, fu glorioso tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, quanto più glorioso sarà il ministero dello spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare, e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto, affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosto, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul suo cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Or, il Signore è lo Spirito, e dove lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo 3 Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo 4 Perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfurgi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali quelli che non credono. Il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore, e noi stessi siamo stati i vostri servi per amore di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce dalle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per fare splendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rivolge sul volto di Gesù Cristo. Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo di continuo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi opera la morte, ma in noi la vita. Ma pure, avendo noi lo stesso spirito di fede come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signor Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose, infatti, sono per voi affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare nella gloria di Dio. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova in giorno in giorno. Infatti, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso nelle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo 4 Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo 5 Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti, che siamo in questa tenda, gemiamo, essendo aggravati e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è immortale sia assorbito dalla vita. Orcolui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello spirito. noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi sia che abitiamo nel corpo sia che partiamo da esso. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore persuadiamo gli uomini ma siamo manifesti a Dio e spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze perché non ci raccomandiamo di nuovo a voi ma vi diamo l'opportunità di gloriarvi di noi affinché possiate rispondere a coloro che si gloriano nell'apparenza e non nel cuore. Infatti se siamo fuori di senno lo siamo per Dio e se siamo di buon senno lo siamo per voi poiché l'amore di Cristo ci costringe essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti dunque tutti sono morti e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove. ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo non imputando agli uomini i loro falli ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro vi esortiamo per Cristo siate riconciliati con Dio poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Seconda Epistola ai Corinzi capitolo 5 Seconda Epistola ai Corinzi capitolo 6 Ora essendo Suoi collaboratori vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio perché egli dice Io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora è il tempo accettevole ecco ora è il giorno della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa affinché non sia vituperato il ministero. ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio con molta pazienza nelle afflizioni nelle necessità nelle distrette nelle battiture nelle prigionie nelle sedizioni nelle fatiche nelle veie nei digiuni con purità con conoscenza con pazienza con benignità con lo Spirito Santo con amore non finito con la parola di verità con la potenza di Dio con le armi della giustizia a destra e a sinistra nella gloria e nel disonore nella buona e nella cattiva fama come seduttori eppure veraci come sconosciuti eppure riconosciuti come morenti eppure ecco viviamo come castigati ma pure non messi a morte come contristati eppure sempre allegri come poveri eppure arricchendo molti come non avendo nulla eppure possedendo tutto la vostra bocca vi ha parlato apertamente o Corinzi il nostro cuore si è allargato voi non state allo stretto in noi ma è nei nostri cuori che siete allo stretto ora in contraccambio parlo come a figli allargate anche voi il cuore non vi mettete come gli infedeli sotto un gioco perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità e quale comunione c'è tra la luce e le tenebre e quale armonia c'è tra Cristo e Belial o che parte ha il fedele con l'infedele e quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli perché voi siete il tempio del Dio vivente come Dio disse io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo perciò uscite di mezzo a loro e separatevene dice il Signore e non toccate nulla di immondo ed io vi accoglierò e sarò un padre per voi e voi sarete per me figli e figlie dice il Signore onnipotente Seconda Epistola ai Corinzi Capitolo 6 Seconda Epistola ai Corinzi Capitolo 7 Avendo dunque queste promesse carissimi purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio Accoglieteci noi non abbiamo fatto torto da alcuno non abbiamo corrotto alcuno non abbiamo frodato alcuno io non lo dico a vostra condanna perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la vostra afflizione da quando infatti siamo arrivati in Macedonia la nostra carne non ha avuto requie alcuna ma siamo stati afflitti in ogni maniera combattimenti di fuori paure di dentro ma Dio che consola gli umiliati ci ha consolati con la venuta di Tito e non solo con la sua venuta ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi egli ci ha riferito dalla vostra bramosia del vostro pianto e del vostro zelo per me per cui mi sono ancora più rallegrato perché anche se vi ho contristato con quell'epistola ora non me ne dispiace anche se mi è dispiaciuto perché vedo che quell'epistola quantunque per breve tempo vi ha rattristati ora mi rallegro non perché siete stati rattristati ma perché siete stati rattristati a ravvedimento poiché se siete rattristati secondo Dio affinché in nessuna cosa avreste ricevere alcun danno da parte nostra la tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento a salvezza che non ha rimpianto ma la tristezza del mondo produce la morte infatti ecco quanto quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio anzi quale scusa quale sdegno quale timore quale grande afflizione quale zelo quale punizione in ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare anche se vi ho scritto non l'ho fatto né per colui che l'ha fatto l'offesa né per colui che l'ha ricevuta ma affinché la vostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti per questo se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui non sono stato confuso ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità così anche ciò di cui ci eravamo gloriati davanti a Tito è risultato verità ed egli ha un grande affetto per voi ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come l'avete ricevuto con timore e tremore io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare in voi seconda epistola ai corinzi capitolo 7 seconda epistola ai corinzi capitolo 8 ora fratelli vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia e cioè che in mezzo a molte prove di afflizione l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri secondo le loro possibilità e anche al di là dei loro mezzi pregandoci con molta insistenza di accettare il dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi e non solo hanno fatto come speravamo ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio così abbiamo esortato Tito che come ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi così la porti a compimento perciò come abbondate in ogni cosa nella fede nella parola e nella conoscenza in ogni premura nel vostro amore verso di noi cercate di abbondare anche in quest'opera di grazia non lo dico per darvi un comando ma per la premura degli altri e per mettere alla prova la sincerità del vostro amore voi conoscete infatti la grazia del Signor nostro Gesù Cristo il quale essendo ricco si è fatto povero per voi affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà e a questo riguardo vi do un consiglio perché questo è utile a voi che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare ma anche a volere ora compite anche il fare affinché come vi è stata la prontezza di volere così vi sia pure il compimento secondo le vostre possibilità se infatti c'è la prontezza d'animo uno è accettevole secondo quello che ha e non secondo ciò che non ha però non si vuole mettere sotto pressione voi per dar sollievo agli altri ma per una ragione di uguaglianza al tempo presente la vostra abbondanza supplisca la loro indigenza affinché anche loro la loro abbondanza sia impiegata a supplire la vostra indigenza perché vi sia uguaglianza secondo quel che sta scritto chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe di più e chi ha poco non ne ebbe di meno ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi perché non solo egli accettò l'esortazione ma con grande diligenza si mise spontaneamente in cammino per venire da voi con lui abbiamo mandato il fratello la cui lode nella predicazione dell'Evangelo si è sparsa in tutte le chiese e non solo questo ma è anche stato scelto dalle chiese per essere nostro compagno di viaggio con questo dono che noi amministriamo alla gloria del Signore stesso e come dimostrazione della prontezza del vostro animo evitando questo che nessuno ci si biasimi per questa abbondanza che è da noi amministrata avendo cura di agire bene non solo davanti al Signore ma anche davanti agli uomini or noi abbiamo mandato con loro il nostro fratello che abbiamo provato spesse volte in molte cose e trovato essere zelante ma ora è ancora più zelante per la grande fiducia che hai in voi quanto a Tito egli è mio collaboratore e compagno d'opera in mezzo a voi quanto ai nostri fratelli essi sono apostoli delle chiese gloria di Cristo date dunque loro la prova del vostro amore e della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle chiese seconda epistola ai corinzi capitolo 8 seconda epistola ai corinzi capitolo 9 riguardo poi alla sovvenzione a favore dei santi mi è superfluo scrivervi poiché conosco la vostra prontezza per la quale mi glorio di voi presso i macedoni dicendo che la caia è pronta fin dall'anno scorso e lo zero da parte vostra ne ha stimolati molti ora ho mandato questi fratelli perché il vostro vanto per voi non risulti vano e a questo riguardo affinché come dicevo siate pronti perché se dovessero venire con me dei macedoni e vi trovassero impreparati noi per non dire voi saremmo svergognati in questa nostra fiducia di vanto perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa perché essa sia pronta come atto di generosità e non di avarizia or questo dico chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore non di malavoglia né per forza perché Dio ama un donatore allegro ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa voi abbondiate per ogni buona opera come sta scritto egli ha sparso egli ha dato ai poveri la sua giustizia dura in eterno or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare provvede e moltiplichi pure la vostra semente ed è cresca i frutti della vostra giustizia allora sarete arricchiti per ogni libertà che per mezzo nostro produrrà rendimento di grazia a Dio perché l'adempimento di questo servizio non solo supplisce alle necessità dei santi ma produce anche abbondanza di ringraziamenti verso Dio perché a casa della prova di questa sovvenzione essi glorifichino Dio per l'ubbidienza con cui professate l'Evangelo di Cristo e per la libertà con cui ne fate parte loro e a tutti e con le loro preghiere per voi vi dimostrano singolare affezione per l'eccellente grazia di Dio sopra di voi ora si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile Seconda Epistola ai Corinzi Capitolo 9 Seconda Epistola ai Corinzi Capitolo 10 Ora io stesso Paolo vi esorto per la mansuetudine e beninità di Cristo io che quando sono presente di persona fra voi ben sono umile mentre se sono assente vi mostro ardito verso di voi vi prego che quando sarò presente non sia obbligato a procedere arditamente con quella confidenza di cui sono ripetuto audace contro certuni che si reputano come se camminassimo secondo la carne infatti anche se camminiamo nella carne non guerreggeremo secondo la carne perché le armi della nostra guerra non sono carnali ma potenti in Dio a distruggere le fortezze distruggendo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo e siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta guardate voi all'apparenza delle cose se qualcuno è convinto in se stesso di essere di Cristo consideri anche questo in se stesso come egli è di Cristo così anche noi siamo di Cristo e anche se mi vantassi un po' di più della nostra autorità che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione non ne sarei svergognato e non vorrei sembrasse che io cerchi di spaventarmi con le mie lettere perché dice qualcuno beh le sue lettere sono dure e forti ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola di poco conto quel tale consideri come siamo a parole per mezzo di lettere quando siamo assenti così saremo anche con i fatti quando saremo presenti non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi ma essi misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi non hanno alcun intendimento ma noi non ci vanteremo di cose oltre misura ma secondo la misura della norma che il Dio della misura ha assegnato a noi permettendoci di giungere fino a voi perché non ci estendiamo oltre i limiti come se fossimo giunti fino a voi perché se siamo veramente giunti fino a voi con la predicazione dell'Evangelio di Cristo e non ci vantiamo oltre misura delle fatiche altrui ma nutriamo la speranza che crescendo la vostra fede noi saremo maggiormente considerati tra di voi secondo la nostra norma in modo traboccante così da evangelizzare anche il luogo al di là del vostro senza vantarci della maniera ad altri di cose già preparate ora chi si glori si glori nel Signore poiché poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato ma colui che il Signore raccomanda seconda epistola ai corinzi capitolo 10 seconda epistola ai corinzi capitolo 11 oh quanto desidererei pure che voi sopportasse con me un po' di follia ma infatti voi mi sopportate io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati a uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che ci deve essere verso Cristo se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù che noi non abbiamo predicato o se voi riceveste un altro spirito che non avete ricevuto o un altro evangelo che non avete accettato ben lo sopportereste ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli e anche se non sono istruito nella parlare lo sono però nella conoscenza anzi vi siamo stati d'esempio in ogni modo e in tutte le cose o forse io commesso peccato abbassando me stesso affinché fosti innalzati voi per il fatto che vi ho annunziato l'evangelo di Dio gratuitamente io ho spogliato altre chiese ricevendo uno stipendio da loro per servire voi inoltre quando ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno non sono stato di aggravio da alcuno perché supplirono al mio bisogno i fratelli che vennero dalla macedonia e in ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di aggravio e anche per l'avvenire me ne guarderò come la verità di Cristo che è in me questo vanto nei miei confronti non sarà messo a tacere nelle regioni della caglia perché forse perché non vi amo Dio lo sa anzi ciò che io faccio lo farò ancora per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto per essere trovati simili a noi in ciò di cui si gloriano tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudulenti che si trasformano in apostoli di Cristo e non ce n'è da me revergliassi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri e di giustizia la cui fine sarà secondo le loro opere lo dico di nuovo nessuno mi consideri un insensato se no ricevetemi pure come un insensato affinché mi possa anch'io vantare un po' ciò che dico in questa fiducia di vanto non lo dico secondo il Signore ma come nella follia poiché molti si vantano secondo la carne anch'io mi vanterò voi infatti che siete savi sopportate volentieri gli insensati perché se qualcuno vi riduce schiavitù se qualcuno vi divora se qualcuno prende del vostro se qualcuno si innalza se qualcuno vi percuota in faccia voi lo sopportate lo dico a mia vergogna come se noi fossimo stati deboli eppure in qualunque cosa uno è ardito lo dico nella follia sono ardito anch'io sono essi ebrei lo sono anch'io sono essi i sdraeliti lo sono anch'io sono essi i progeni di Abramo lo sono anch'io sono essi i ministri di Cristo parlo da stolto io lo sono più di loro nelle fatiche molto di più nelle battiture grandemente di più molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte dai giudei ho ricevuto cinque volte quaranta sferzate meno una tre volte sono stato battuto con le verghe una volta sono stato lapidato tre volte ho fatto un nafraggio ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso sono stato spesse volte in viaggio fra i pericoli di fumi pericoli di ladroni pericoli da parte dei miei connazionali pericoli da parte dei gentili pericoli in città pericoli nel deserto pericoli in mare pericoli fra falsi fratelli nella fatica e nel travaglio sovente nelle veglie nelle fame e nella sete spesse volte in digiuni nel freddo e nella nudità oltre a queste cose esterne ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese chi è debole? che non lo sia anch'io? chi è scandalizzato che io non arda? se è necessario vantarsi io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza il Dio è padre del nostro Signor Gesù Cristo che è benedetto in eterno sa che io non mento a Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie della città dei damasceni volendomi catturare ma da una finestra fui carato lungo il muro in una cesta e così scappai dalle sue mani secondo Epistola ai Corinzi capitolo 11 seconda Epistola ai Corinzi capitolo 12 certo il vantarsi non mi è di alcun giovamento vero quindi alle visioni e rivelazioni del Signore io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa se il corpo o fuori del corpo non lo so Dio lo sa fu rapito fino al terzo cielo e so che quell'uomo se il con il corpo o fuori dal corpo non lo so Dio lo sa fu rapito in paradiso e odì parole ineffabili che non è lecito da alcun uomo proferire io mi glorierò di quel tale ma non mi glorierò di me stesso se non delle mie debolezze anche se volessi gloriarmi non sarei un insensato perché direi la verità ma me ne astengo affinché nessuno mi giudichi di più di quello che mi vede essere o sente da me inoltre affinché non mi insupervisca per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata data una spina nella carne un angelo di Satana per schiafferciarmi affinché non mi insupervisca a questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me Megli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me perciò io mi diletto nelle debolezze nelle ingiurie nelle necessità nelle persecuzioni nelle distrette per amore di Cristo perché quando io sono debole allora sono forte sono diventato insensato vantandolo voi mi ci avete costretto perché avrei dovuto essere raccomandato da voi perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli benché io non sia niente ora i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza con segni prodigi e con opere potenti in che cosa infatti siete stati da meno delle altre chiese se non in questo che io non vi sono stato d'aggravio perdonatemi questo torto ecco questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò d'aggravio perché non cerco i vostri beni ma voi perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori ma i genitori per i figli in quanto a me molto volentieri spenderò anzi sarò speso per le anime vostre anche se amandovi più intensamente sono amato di meno ma sia pur così io non vi sono stato d'aggravio tuttavia essendo astuto vi ho presi confrote mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ho mandato ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello Tito si è approfittato di voi non abbiamo combinato col medesimo spirito e sulle medesime orme pensate di nuovo che ci giustifichiamo davanti a voi noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto ciò carissimi per la vostra edificazione temo infatti che talora quando verrò non vi trovi come vorrei e che io non sia trovato da voi quale mi vorreste che talora non ci siano fra voi contese gelosie ire risse diffamazioni insinuazioni superbi tumulti e che venendo di nuovo fra voi il mio Dio non mi umili davanti a voi e io non pianda su molti di quelli che in precedenza hanno peccato e non si sono ravveduti dell'impurità della fornicazione e della dissolutezza che hanno commesso seconda epistola e corinzi capitolo 12 seconda epistola e corinzi capitolo 13 questa è la terza volta che vengo da voi ogni parola sarà confermata per la bocca di due o tre testimoni l'ho detto prima e lo dichiaro ancora come se fossi presente la seconda volta ma essendo ora assente scrivo a quelli che hanno in precedenza peccato e a tutti gli altri che se vengo di nuovo non risparmierò nessuno perché voi cercate la prova di Cristo che parla in me il quale non è debole verso di voi ma è potente in voi se io infatti è stato crucifisto per debolezza ora però vive per la potenza di Dio perché anche noi siamo deboli in lui ma vivremo con lui per la potenza di Dio verso di voi esaminate voi stessi per vedere se siete nella fete provate voi stessi non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi a meno che non siate riprovati ma io spero che voi riconoscerete che noi non siamo riprovati or prego Dio che non facciate alcun male non perché noi appariamo approvati ma affinché voi facciate quel che è bene e non siamo come rimprovati perché non possiamo far nulla contro la verità ma solo per la verità perciò noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti e noi preghiamo anche per questo per il vostro perfezionamento perciò scrivo queste cose essendo assente affinché quando sarò presente non proceda rigidamente secondo l'autorità che il Signore mi ha dato per l'edificazione e non per la distruzione del resto fratelli rallegratevi siate ristorati siate consolati abbiate la stessa mente state in pace il Dio dell'amore e della pace sarà con voi salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio tutti i santi vi salutano la grazia del Signor Gesù Cristo l'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo siano con tutti voi amén seconda epistola ai Corinzi capitolo 13